Buonasera a tutti, porto il saluto del Presidente Vitale della provincia di Rimini a questo importante evento. L'amministrazione provinciale di Rimini è lieta di dare il suo benvenuto alla 34esima edizione del meeting, un momento di riflessione che ogni anno si rinnova e di cui con il passare delle stagioni aumenta l'urgenza e la necessità. Una parentesi particolare di confronto che soprattutto in momenti complessi come quelli che stiamo vivendo, attraversando, e se ne è anche parlato negli interventi che mi hanno preceduto, è capace di cercare, proporre e costruire orizzonti di senso nella gira dell'uomo. Un momento in grado di imporre all'attenzione dell'opinione pubblica, della politica e dei protagonisti del nostro tempo temi e valori di assoluto livello importanza. Proprio così, in un tempo di cinica amministrazione, di governo a tutti i livelli, discutere il senso e di senso sia il gesto, credo, più rivoluzionario e anticiclico che si possa fare in momenti come questi. Per Rimini, di cui siete parte integrante e viva, questo rappresenta certo una novità. Il meeting è da sempre un vero e proprio cuore pulsante che anima, interroga e qualifica nel profondo il vivere della nostra provincia, del nostro territorio, delle nostre comunità. E questo, credo, la dote più profonda che il meeting è in grado di portare, anno dopo anno, al nostro dibattito, al dibattito internazionale, ma come dicevo, alle nostre comunità, rinsaldando questo forte rapporto che continuiamo a costruire ogni giorno. L'evento di quest'anno arriva appunto per il nostro territorio in una fase, se possibile, ancora più delicata. L'impressione è che un bivio si stagli davanti a Rimini, al nostro territorio, al paese. Da una parte la strada della conservazione e dall'altra quella di una frontiera inedita, non leggibile chiaramente nei timori e nelle speranze. La crisi, così come ci ha insegnato proprio l'edizione scorsa del meeting e quest'anno fa nuovamente, mettendo al centro l'uomo, è anche e soprattutto occasione di rigenerazione, di riflessione, di cambiamento positivo. Spero che con questo spirito, che anima nel profondo anche il cartellone 2013 di questa edizione, vi sia una nuova ripartenza per noi tutti, per il nostro territorio, per il meeting, per la politica. Non ho dubbi che su questi aspetti così delicati, ma fondamentali per le nostre comunità, la voce dei vostri ospiti sarà nuovamente un riferimento autorievole e prestigioso per tutti noi. Certo, nel fare questo oltre alla capacità, all'organizzazione, alle risorse, serve qualcosa di sempre più raro, il desiderio, lo slancio vitale. E allora l'augurio che vi faccio, e che faccio anche a nome del Presidente Vitali, è che il grande desiderio, dicevo, che da sempre anima ed è alla base dei tanti giovani volontari dell'organizzazione di questo storico evento possa contagiare e coinvolgere anche la nostra comunità, insieme ai tantissimi ospiti e ai numerosi relatori attesi per questo evento. Grazie.